Allora, siamo qui con Gian Mastrantuono, direttamente da Sanremo. Gian, che tempo fa Sanremo? Tutto a posto? C'è il sole? Oggi c'è di nuovo il sole, basta acqua. Perché lì è o bufera o sole. Qua non ci sono vie di mezzo. Di solito quando venivi tu a trovarmi, adesso anche quando magari solo lo pensi. Esatto, perché con il sol da Sanremo c'era sempre bufera, sempre bufera. E oggi di cosa parliamo con Gian? Parliamo di ristoranti d'eccellenza. Gian non ha un ristorante, credo che non l'hai mai neanche avuto, giusto? Un ristorante. Però ne conosce tanti, ne conosce tanti di tutti i livelli. Nella zona di Sanremo, Nizza, la zona Ligure. Sì, tutta la costa Ligure, la costa Azzurra. La costa Azzurra, esatto. Perché Gian si occupa di forniture per alberghi e ristoranti e locali in generale. Sì. E si occupa di questa cosa da qualcosa come 25 anni. Sì, 27. 27, 27. Mi ha fatto il venticinquesimo due anni fa già ormai, è vero? Bravo, bravo, sì. Quindi ho due anni che conosco Gian. E con Gian abbiamo fatto un sacco di cose simpatiche di cui parliamo oggi, perché ci caliamo nel mondo delle priorità, sia perché il posizionamento che poi abbiamo costruito con Gian è stato quello di lavorare sui ristoranti d'eccellenza. Quindi una parte, diciamo, del lavoro con Gian è stato lavoriamo per trasformare i ristoranti in delle eccellenze. E lavoriamo solo con i ristoranti d'eccellenza, no? Perché ci sono due aspetti che fanno di un ristorante un'eccellenza. Uno è sicuramente tutto quello che è il customer service, cioè il servizio al cliente. E l'altro è il ristorante in sé. Quindi come è messo il ristorante, come sono messi i menu, tutta l'attrezzatura, che è tutto quello che si occupa di fare Gian all'interno di un ristorante, giusto? Quindi prima di tutto, visto che quello è stato il posizionamento, il lavoro per due anni, volevo chiederti quali erano, secondo te, le priorità, parlando di priorità, di un ristorante che si definisce un ristorante d'eccellenza. Le priorità direi che sono essenzialmente il viziare il cliente, cioè praticamente dagli… Sì, io mi sono dato questo modo di dire, perché ristoranti ormai ce n'è tantissimi, noi ogni tanto qua ne parliamo a Sanremo, ogni portone stanno aprendo un bar o un ristorante, sembra che non ci sia altro da fare. Però effettivamente questo offre la Liguria, una terra stupenda, c'è di solito bel tempo. La ristorazione e l'hotellerie, secondo me, sono ancora un pochettino indietro. Ecco perché puntare su alzare l'asticella per valorizzare, poi alla fine anche il nostro lavoro, ma quello del ristorante, facendolo diventare un ristorante d'eccellenza. Quindi viziare il cliente, siccome ho scritto anche un post pochi giorni fa su questa cosa qua, non so se l'hai visto, sul fatto se era giusto o non giusto viziare il cliente. Tu la metti come priorità di un ristorante di eccellenza che tra l'altro da quando avevamo iniziato a lavorare avevamo visto che questa cosa era fatta da pochissimi ristoranti lì nella tua zona, cioè c'era una specie di diamo per scontato il cliente, perché l'opposto di viziare è do per scontato che il cliente venga, dico che lo tratto a pesce in faccia, però faccio il minimo indispensabile, insomma, e via. I tempi stanno cambiando e quindi di conseguenza questa è la prima priorità, viziare il cliente. La domanda successiva è ma come si vizia? Cosa vuol dire per te viziare il cliente e com'è che consigliereste ad un ristoratore, sempre nella logica delle priorità, di viziare il cliente? Ma innanzitutto deve avere il ristoratore tutto l'insieme della ristorazione, per questo deve poi per priorità lavorare e secondo me quattro campi, vedi che comincio a ragionare come te dividendo tutto, ma questo aiuta tantissimo, quattro blocchi, perché è chiaro che uno pensa al ristorante, la cucina, è normale, cucina, offro quello, per questo il piatto, l'evoluzione del piatto, di come proporlo, nuovi gusti, per carità quello è importante, ma non penso che un ristorante debba evolversi solo in quello, ci sono poi i campi secondari che sono comunque quelli che osservano il cliente, quelli che viziano il cliente, che sono la tavola, come proponi una mise en place, cioè una messa in tavola di quello che tu dai, una volta fino a dieci anni fa il piatto era bianco, classico alberghiero, piano, fondo, frutta, tutti uguali, adesso vogliono i piatti con forme particolari, vengono quasi dipinti questi piatti, sono la cornice, mi serve quel piatto lì perché ci faccio quel tipo di pietanza, e questo è un valore aggiunto, poi c'è l'altro blocco che può essere la sala, dove comunque qui abituati, che tanto la gente scendeva giù, tiravano giù con le carriole davanti al locale, lavoravano comunque, adesso non è più così, e allora lavora il locale più bello, quello dove si sono rinnovati gli arredi, riqualificate un pochettino le strutture, per questo non si possono più vedere, menu fatti in fotocopia e plastificati, non si possono più vedere, ma sì, sedie di plastica o tendaggi dell'Ottocento, cioè adesso… Algi da dietro magari così tendano… Esatto, esatto, e quello fa la differenza, proprio perché ce ne sono, tantissimi, non c'è più milioni di turisti che arrivano, anche il tempo ci mette la sua, e di conseguenza bisogna distinguersi, bisogna distinguersi. Qual è il quarto blocco Gian? Io direi il Deor, che al contrario è la prima percezione del cliente, quando arriva vede il Deor, qua avevamo dei Deor secondo me veramente obsoleti. Deor puoi spiegarlo per chi non è… Deor praticamente è la struttura esterna, che possono essere semplicemente sedie, tavoli e un ombrellone, oppure possono essere delle chiusure laterali all'ombrellone, o quelle strutture che adesso si fanno… praticamente l'aggiunta di coperti all'esterno, che veniva fatta con ombrellone algida e due sedie e tavoli di plastica, adesso chi fa il Deor più bello è quello che magari ha più probabilità di tirarsi il cliente dentro, poi dopo ci metti il resto, ci devi mettere sala, tavola e cucina. Per questo lavorare per priorità vuol dire, deve capire il ristoratore, noi possiamo anche aiutarlo in questo, il blocco su cui intervenire per prima. Sono tutti e quattro importanti, come dopo ne parleremo, i 18 blocchi che hai fatto, le aree, i blocchi del tuo libro. Te li sei letti tutti? Te li sei letti tutti, tra l'altro, questi 18 blocchi? Una pazzia, io sai che faccio sempre fatica, quando ho dovuto leggere i tuoi manuali mi sembrava di tornare a scuola con la Divina Commedia, è stato pesantissimo, e questo qua, boh, io me lo sono preso, me lo sono letto, mi hai dato un'anticipazione così, ti ringrazio, poi chiaramente voglio la copia delle 300 autografata, ma me lo sono divorato in quattro giorni, letto molto molto veloce, come tutte le tue cose, e poi sono da rileggere dieci volte, perché ogni volta sembra di leggere una frase diversa, la interpreti diversa, mentalmente capisci anche le cose di più, però sì, dopo se vuoi ne parliamo del libro, io sono rimasto entusiasta. Sì, dopo voglio chiederti due info, e tornando ai blocchi, una cosa importante di questa cosa della ristorazione, mi è piaciuta molto questa metafora che hai fatto dei blocchi, perché Gian, per esempio, su quello con cui abbiamo lavorato a livello di posizionamento, è una priorità, ma non va confusa la parte di priorità di chi fa Gian, con la macro priorità di un ristorante, perché capita spesso che un ristorante dica, ok, mi voglio iniziare, come dico sempre io, voglio iniziare, e spendo 40.000 euro per l'arredamento, 20.000 euro per il Deore, 10.000 euro per la cantina, per il marketing, basta, non ho più soldi. Ok, è vero che queste cose sono marketing, perché sono marketing, ma è fondamentale fare una valutazione, veramente allargata, delle priorità, e dire, prima di investire tutto su una cosa, devo cercare equilibri anche nelle altre, come non ha senso, classico errore del ristorante, investire nell'acquisizione clienti, fare marketing all'esterno, quando all'interno non c'è un modello procedurale, o non c'è un sistema che permetta di gestire l'afflusso di clienti alto. Voi per esempio, quando avete il festival di Sanremo, lì c'è una botta, però mi dicevi, in quelle situazioni lì, ma anche in altre situazioni, molti ristoranti vanno in deficit, perché non sono in grado di gestire un numero di persone alto, se non sei in grado di gestire un numero di persone alto, quando ti capita, hai anche una serie di recensioni negative, cioè da gestire, hai una serie di clienti insoddisfatti da gestire, cioè i clienti che perdi in quelle situazioni lì, sono più di quelli che magari hai guadagnato, e quindi questo, la visione nelle valutazioni delle priorità, è molto importante, non so poi se sei d'accordo Gian, sulle tue quattro aree, però nella mia logica delle priorità, è lavorare su una priorità, fino a quando non smette di essere una priorità, e poi lavorare sulle altre, cioè far crescere l'attività, in questo caso il ristorante, e tu hai quattro blocchi, in maniera abbastanza omogenea, cioè non ha senso avere un deor fantastico, e i piatti. Sì, esatto, bisogna intervenire, come hai detto bene, per priorità, per questo vedere qual è la prima cosa, se è una tavola decente dei piatti brutti, la priorità è quella, se fai comunque una comunicazione scarsa alla clientela, non dai percezione, o l'esempio di un amico che ha preso un cuoco, ma così bravo, che veramente secondo me poteva andare in televisione, ma non lo sapeva nessuno, e questo praticamente alla fine è tornato a fare la sua solita cucina normale, e non così evoluta, quindi è stata una priorità, dove magari potevi, se intervenivi tu, ho sempre pensato a quello, adesso era uno delle eccellenze. E la cosa interessante, ecco poi abbiamo lavorato con Gian, che poi è diventato, ci stiamo spostando sempre di più sul mondo della consulenza, con Master Sanremo, con il lavoro di Gian, e la consulenza è legata a dirti che cosa devi fare, quindi anche lì è un lavoro di priorità, anche il tuo è un lavoro di priorità, e è un po' come se stabilissimo all'interno di un ristorante, tu e all'interno di un'azienda io, una linea di equilibrio tra tutti i vari blocchi o le varie aree, e le priorità sono le aree dove sono più lontane da quella linea di equilibrio, però è importante che quando noi alziamo un'area, portiamo anche tutte le altre a quella linea di equilibrio, cioè l'equilibrio è fondamentale, perché anche un elemento basso, cioè il ristorante che ha tutto bello, ma il bagno non curato, voglio dire, genera ancora più fastidio forse nel cliente, cioè si evidenzia ancora di più la pecca, rispetto ad un ristorante o un bar, che insomma è tutto di basso livello, quindi bisogna stare attenti, secondo me nella valutazione delle priorità, a individuare, prima l'area dove sei più scarso, ma poi anche cercare di equilibrare, di non far salire troppo una, senza aver porto sulle altre, perché altrimenti si genera disequilibrio, i difetti si vedono molto di più. Infatti me la sono già scritta questa, perché mi è piaciuta. Nel tuo ruolo di consulenza, poi ne abbiamo fatto un'altra cosa, veramente molto figa, molto bella, che è la prima volta che io ho fatto, con un imprenditore, che è stato l'organizzazione di una fiera, cioè non una fiera tipo andiamo a fare uno stand, ma proprio organizzare la sede, i spendisti, prendere i clienti, organizzare la sede, di dicendo. Questa cosa l'abbiamo fatta due anni fa, per la prima volta, che è nata come così, idea, lavoriamo, volevamo lavorare sull'EPR, cioè sull'autorità di Giante. era un po' celebrativa dei 25 anni della Master Sanremo, celebrativa dei 25 anni, facciamo questa cosa, e poi dopo invece è diventata proprio un evento a sé stante, è uscito proprio un brand, questo grazie a te chiaramente, la Master Expo è diventata una fiera a tutti gli effetti, stiamo preparando con te la terza edizione, ho già percezione di che cosa è diventata, che cosa potrà diventare, questo da porte aperte, allargate, dove arrivano i fornitori e ti fanno presenza quasi per piacere, a fornitori a livello nazionale che ti chiamano per poter partecipare, per richiederti uno spazio, perché gli interessa l'evento, la zona e l'organizzazione, per questo tanta roba. Ecco, raccontiamola dall'inizio, dove magari volevo parlare con te sempre del concetto delle priorità, cioè da dove partire, perché è stata creata, cioè la logica della fiera, questa qua tecnicamente si chiama fiera fornitori, che è una fiera dove con Gianne abbiamo detto, se siamo noi il polo a unire fornitori di eccellenza, a ristoranti che vogliono diventare d'eccellenza, sempre tutto molto connesso allo scopo sociale di Gianne, di Master Sanremo, qual è il modo migliore che non organizzare un piccolo polo fieristico, dove invitiamo 10, 15, quanti erano nel primo anno? 10, 15? Primo anno, no, eravamo arrivati quasi a 30, quasi a 30 fornitori, sì, 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 tra piccoli e grandi, chiaramente, diciamo che contandoli proprio tutti. Esatto, invitiamo un po' di ristoratori, invitiamo un po' dei nostri clienti tipo, perché se vengono, so, 50, 100 ristoratori, per noi, i nostri clienti, li fidelizziamo e facciamo gli ordini, invece i nuovi clienti, in qualche modo, abbiamo la possibilità di conoscerli e di, naturalmente, oltre ad aumentare il volume d'affari, anche ad aumentare l'autorità. Sta cosa qua, innanzitutto, quando è partita, no, classico, filosofia piena 1.0, io non so se tu lo puoi, lo puoi testimoniare, ma se non avessimo seguito la filosofia 1.0, sta fiera non l'avremmo mai creata. Non ci sarebbe stata la seconda, secondo me, rimaneva lì un evento a sé stante, e io, sì, mi ero fatto la mia lista di cose da fare, non focalizzate per priorità, e alla fine ero andato un po' in difficoltà, non avevo esperienza per crearla. Seguendo, forse, il 25% dei tuoi consigli, perché non ero riuscito in quel momento a capire esattamente quello che mi dicevi, neanche, ero all'inizio, per questo ci dovevamo allineare, io dovevo imparare anche cosa mi stavi insegnando, siamo già riusciti ad avere un discreto successo, sono venute, secondo me, poche persone, ma 200 persone, abbiamo fatto comunque una conversione del 50%, cioè tutti quelli, metà di quelli che sono venuti hanno fatto un acquisto, per questo è stata in piedi commercialmente, ha cominciato a darci dell'authority, ha cominciato a parlare di noi, non eravamo più il solito grossista di zona, ma quello che cominciava a offrire qualcosa di più. La seconda edizione, dimmi, scusa. Tornando alla prima, scusa, perché il concetto dell'1.0, secondo me, la soglia, avendo vissuto anche questa cosa qua in prima persona, è proprio legata sicuramente. Mi ricordo che alla fine eri lì che attaccavi gli adesivi, perché è grande, sì, Due volantini ho attaccati io, l'unica attaccavo le borse, avevo indicazioni, mi ricordo. Perché era poco visibile, mi ricordo. E la, questa deformazione professionale, perché nella mia praticità quando vedo una cosa che non funziona, dico, mi butto e è più forte di me, come penso te e la maggior parte degli imprenditori. Però la cosa dell'1.0 credo che sia, soprattutto in questo caso, che può essere anche ricondotta però a semplicemente fare un video, fare un articolo, buttarsi in una cosa che non si è mai fatto, è proprio legata al coraggio. Perché il fatto di fare una fiera che fatta comunque in una sede abbastanza importante che era il Palafiori. Palafiori. dove fanno Casa Sanremo per il festival. Esatto. Bella sede. Perché conosce Sanremo coinvolgere istituzioni, coinvolgere i clienti, coinvolgere i fornitori propri, cioè vuol dire che non sai come va. Adesso a distanza di tre anni, terza edizione, sappiamo come è andata, dopo raccontiamo gli sviluppi, però all'inizio non è una passeggiata, cioè che io posso essere un supporto e via, però l'imprenditore che ha le palle per fare una roba di questo tipo e dire la faccio secondo me è veramente l'essenza imprenditoriale, cioè avere le palle per applicare l'1.0 e dire e capirla anche dal dire se io non faccio questa cosa e aspetto che sia perfetta nei minimi dettagli sta cosa qua non la farei mai, non la farò mai, ok, va bene, ci sta, proviamola e poi abbiamo fatto una grande priorità che secondo me era stata quella di fermarci subito a identificare le aree di miglioramento della fiera. Quello secondo me è una delle priorità quando fai un evento, no? È priorità quella è stata fondamentale a punti che sono serviti come il pane per creare la seconda e andare giù facilmente, per questo in effetti dopo che ti ho conosciuto ho dovuto veramente violentare la mia praticità unita però al perfezionismo, cioè io se non faccio una cosa strabene non la faccio non la facevo facendo così chiaramente ho fatto abbastanza ma ci ho messo comunque 25 anni sono sicuro che se lavoravo dall'inizio per priorità e per per scelte principali cioè a quest'ora ero avanti di dieci anni o quindici sicuramente la fiera è stata la dimostrazione le priorità quindi per sintetizzare potremmo dire che sono primo la priorità è fare iniziare cioè creare la versione più sintetizzata più essenziale di quello che si vuole fare e metterla in pratica dopodiché immagino che chiamare i fornitori chiamare i clienti invitare cioè tutte però queste attività sono state 1.0 perché mi ricordo che ci dicevamo ok questa cosa qua l'abbiamo prefissata a 100 abbiamo fatto il 25 riusciamo a fare il resto no va già bene il 25 sì passiamo ad altro cioè va bene e facciamola il fatto che di avere una data prestabilita c'è però poi 1.0 non ha senso se la seconda edizione la seconda cosa che fai non apprendi dalla prima il check fondamentale assolutamente troviamoci facciamo questo check io ricordo che il check va fatto non solo dall'imprenditore ma anche da tutte le persone coinvolte perché abbiamo chiesto a tutti dateci le idee le aree di miglioramento della fiera e da lì sono emerse tante idee che poi hanno caratterizzato la seconda e poi la terza e la terza terza edizione che sarà a marzo beh la seconda già è nata la seconda l'abbiamo fatta a marzo la terza la facciamo il 26 27 febbraio febbraio un po' prima perché sì un pochettino prima perché quella dell'anno scorso è andata così bene che ci ha messo in crisi la logistica eravamo troppo vicini a Pasqua tutti volevano roba per Pasqua e siamo impazziti perché per fortuna ha portato tanto quest'anno l'abbiamo anticipata un pochettino visto che Pasqua è un po' più su e l'abbiamo fatta l'ultima settimana di febbraio numeri e risultati di questa di questa qua di quest'anno a livello di di fornitori a livello di clienti a livello di aspettative anche di cose che sono successe che insomma ti hanno fatto piacere perché sta fiera sta ormai facendo parlare di sé la piccolina sta diventando insomma si sta facendo le spalle e sta diventando come dicevi tu un brand un brand a sé stante quindi quali sono le cose che ci aspettiamo da questa edizione mi sono dato altra cosa che ho imparato da te su questo libro le aspettative per questo mettersi delle aspettative anche alte perché se non ti metti delle aspettative avanti alte e vuoi andare avanti di un 5% 10% è normale che ce la fai ma non arriverai mai a fare il 50% o raddoppiare per questo mi sono dato aspettative abbastanza altive sono sicuro di comunque di arrivarci o vicino o lì perché i nuovi espositori cosa bella del si si espositori nuovi sono venuti a cercarmi poi siamo andati alla fiera di riferimento che è quella di Milano che fanno biennale l'host lì nell'ente fiera talmente elefantica talmente grande che era quasi infastidente cioè uno non riusciva a focalizzare niente sono andato a cercarmi un articolo che magari è un po' carente del mio catalogo c'erano 22 espositori che lo proponevano non hai neanche il tempo materiale di valutare di vedere cioè bello perché devi esserci però allo stesso tempo mi è piaciuto perché quelli che mi incontravano quelli che mi conoscevano dicevano l'anno prossimo ci sono Gianna è sicuro guarda che contami la rifai vero e qualcun altro mi ha detto ho saputo che hai fatto la fiera ne possiamo parlare dopo finita questa e in questi giorni sto ricevendo appunto aziende a livello nazionale alcune proprio vendono in tutto il mondo che hanno interesse in questa zona hanno interesse in questa fiera per questo è tanta roba per uno che l'ha fatta così per gioco vuol dire che stiamo facendo bene stiamo facendo bene 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 quindi poi sì sicuramente i risultati sono PR sono fatturati perché anche quelli sono aumentati tantissimo il secondo anno crediamo che aumenteranno molto anche qua e anche l'affluenza perché già il secondo siamo passati da 200 a 500 600 persone no? 680 quasi 700 e quest'anno ovviamente quest'anno io conto 1000 espositori l'anno scorso 63 contro 30 erotti quest'anno dovremmo arrivare a 100 espositori spaziando anche cioè crescita esponenziale quasi sì finché si può sì tanto mi ha andato anche fiducia una crescita verticale cioè arriveremo a un punto dove stabilizziamo però questa forma di crescita sempre basata sulle priorità di mettere in pratica aree di miglioramento e versione 1.0 1.0 1.0 sono le due priorità fondamentali poi si arriva a un punto che anche le priorità cambiano cioè per esempio la priorità estetica cioè quando si organizza una fiera ci sono tantissime cose tantissimi dettagli tipo io ricordo che avevamo valutato mettiamo il tappeti le moquette mettiamo le televisioni in giro mettiamo questo mettiamo quell'altro sì tutte buone idee ma le facciamo dopo cioè le facciamo in queste azioni ed è importante poi aversele segnate queste cose e dire ok questa è l'edizione dove lo facciamo automatizzare ragazzi questa roba qua è fondamentale automatizzata è quello che avete già fatto cioè la fiera in questo caso che diventa una struttura sempre più complessa non è che tutte le volte deve essere ricreata da zero perché il 70% di quello che avevamo già fatto a livello organizzativo procedurale deve essere pianificato l'avete già fatto avete già avuto esperienza deve essere pianificato e organizzato perché questo vi libera spazio mentale procedurale per fare altro e poi arrivare a dire tra 3-4 anni ho creato una realtà conosciuta a livello nazionale abbiamo lavorato su un personal brand importante abbiamo lavorato su un'azienda importante e siamo arrivati lì tra l'altro senza neanche toccare il classico non so se Gian magari fosse andato a lavorare su il funnelino e il funnel di acquisizione cliente queste cose qua senza considerare le sue priorità che erano devo lavorare sul posizionamento del brand devo lavorare su l'autorità e diventare il più famoso all'interno della mia zona della mia cerchia allargare la mia cerchia probabilmente si avrebbe fatto qualche cosina in più ma questo significa costruire le basi per fare questa è la differenza tra strategia e lavoricchio sugli strumenti sul funnel sul sito sul web sulle altre cosucce quindi priorità è un esempio di priorità molto calzante insomma Gianni e poi complimenti perché hai fatto anche delle cose oltretutto che sono grandiose sempre affiancato da grande aiuto di Manuel che non c'è con te ma insomma anche lui si è sbattuto non poco molto bravo sì mio figlio certo figlio di Gianni che insomma è stato di grande supporto ebbene passiamo al libro vorrei chiederti ma questo libro tu l'hai letto ti ho girato il manoscritto tra l'altro veramente pochi giorni fa io devo per scontato che non l'avessi letto perché ho detto sì perché sai che di solito io sono questa cosa ne pensi di questo no 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 bello 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 l'ho visto mi ha colpito non capisco neanche come hai fatto a scriverlo in così poco tempo e poi comunque sono riuscito a leggerlo in sono riuscito a leggerlo in quattro giorni quattro giorni sì sì molto velocemente non sono libero proprio leggerlo proprio come fosse un romanzo è chiaro che poi dopo è un libro tecnico si legge facilmente ci sono chiaramente un po' di termini che per fortuna ci hai insegnato non sono poi così difficili io poi ero così da digiuno due anni fa di marketing che per me payoff era una parolaccia per questo diciamo che no no l'ho letto l'ho letto bene anche i manuali non erano male ma questo hai ragione è il vero primo libro è una cosa che uno può leggerlo così il puzzle marketing fa che è molto più tecnicone cioè quali lì sono le incendi di cui vuole costruire questo è proprio proprio libro posso chiederti quali sono le idee ci sono due o tre idee nucleo che ti hanno colpito ma guarda mi sono piaciuti mi sono piaciuti moltissimo quello che ti dicevo di aumentare le aspettative aumentare le aspettative anche a lungo termine vedere la tua azienda come sarà tra un anno tra cinque tra dieci e poi lavorarci per priorità se ho capito bene diciamo il tuo messaggio veloci a tre quattro mesi questo ti dà la strada per procedere se sbagli qualche cosa perché uno può interpretare una priorità magari anche errata oppure che ha dato pochi frutti hai sprecato poco tempo se invece uno si lancia per un anno due imprese grossissime poi vede che ha sbagliato quanto tempo quanti soldi ha perso questo questo l'ho trovato eccellente cose fatte io e mi sono reso conto infatti di avere di avere buttato un sacco di tempo un sacco di soldi e quando mi accorgo di un errore cerco di qualche modo di fare in modo che altri mi commentano e io l'ho l'ho capito anche che tu l'hai fatto per te ne sei una dimostrazione che ti ho conosciuto veramente due anni fa e ho visto che cosa hai fatto in questi due anni cioè mi sembra che ne siamo passati dieci per una dita normale e tu con questo tuo modo di lavorare check continui priorità e tutto veramente cresci in maniera esponenziale venendoti dietro con magari delle aziende un po' più vecchiotte e da ristrutturare secondo me avremo lo stesso nella dimostrazione la fiera una crescita ampia altre cose che mi sono piaciute per esempio me lo sono proprio appuntato che io non devo fare l'operativo cosa che invece tutti gli imprenditori facciamo quasi tutti ma dobbiamo creare le procedure per farlo fare un altro cioè è inutile che faccio è normale che quello che faccio io lo faccio meglio magari di un collaboratore all'inizio ma non è che posso continuare a crescere e far crescere le ore del giorno cioè all'inizio disperdi tempo disperdi energie disperdi comunque anche soldi perché potrei fare altre cose per questo quello anche mi è piaciuto ecco su queste due posso dare una precisazione magari ho letto il libro la prima sulle aspettative che anche a me piace molto ed è stata un'illuminazione perché quando diciamo di aspettative sembra che insomma ne abbiamo già sentito parlare sono cose che magari uno dice ah lo so già delle aspettative me l'ha già detto in realtà io tratto le aspettative in modo molto tecnico nel libro cioè io dico per identificare le priorità devi avere due cose una è la visione di insieme di tutte le azioni possibili che puoi fare all'interno della tua attività seconda cosa devi capire le implicazioni di queste azioni cioè quali problemi hai se non lo fai quali risultati benefici puoi ottenere se lo fai no per riuscire a identificare i problemi devi avere l'aspettativa se tu non hai un'aspettativa alta e non ti crei un'aspettativa alta in un certo modo quindi con delle domande tecniche precise tu non vedi i problemi perché le problematiche si vedono come incongruenza tra lo stato reale che stai vivendo e la tua aspettativa se tu non vedi i problemi e dal tuo punto di vista va tutto bene non è che non esistono e non ci sono semplicemente è un'aspettativa bassa ricordavo ad un evento che ho fatto domenica sul quando hanno messo alla RAI la censura non so se te la ricordi vabbè se eri piccolino l'ho letta perché mi interessava la cosa questa cosa la censura ho visto che hanno messo ho visto questo articolo dove hanno fatto vedere le prime subrette che facevano vedere un pezzo di coscetta e sta cosa qua ha fatto incazzare come delle iene le mogli delle persone le mogli sono tutte le prime che ci sono incazzate che hanno scritto la RAI dei mariti perché perché il marito prima non aveva aspettative prima guardava la moglie e diceva tu sei la più bella donna del mondo quando ho iniziato a guardare le veline ok che palesemente non sono delle persone reali perché se guardi la velina la mattina appena si sveglia anche lei avrà qualche difetto però quando le guardiamo la tv quando le guardiamo con la coscia così di colpo alziamo le aspettative ci giriamo davanti alla nostra fidanzata la nostra voglia o al nostro marito perché poi anche anche gli uomini hanno iniziato a spogliarsi in tv e diciamo comincia a vedere problemi comincia a vedere incoerenze comincia a non essere soddisfatto no? e questa cosa qua è esattamente quello che dovrebbe succedere a livello di aziende noi dovremmo avere in mente un'azienda molto più grande perché questo ci fa vedere le lacune della nostra azienda se non lo facciamo cioè se il ristoratore non va in un ristorante che è già quello che lui vorrebbe tra 3-4 anni e lo guarda e lo vede quando viene nel suo deve riscontrare delle incongruenze fare il gioco della settimana enigmistica no? questo è quello che insegno con questa con questa cosa qua a livello di aspettativa tecnica e l'altra invece è l'ultima che hai detto che quella è una parte che mi piace tantissimo che è delle attività operative è che nel libro io scrivo se poi tu hai visto la tabellina che ho fatto scrivo le 3 mansioni che dovrebbe fare un imprenditore perché l'imprenditore dico è vero che non deve fare le mansioni operative ma che cosa deve fare e nessuno sa dirti che cosa deve fare un imprenditore ci sono 3 mansioni che deve fare un imprenditore A, B, C sono dentro nel libro ok? una tabellina molto precisa molto schematica se tu non fai quelle mansioni lì sei un imprenditore non praticante praticamente c'è un imprenditore che non sta facendo l'imprenditore e ci sono imprenditori che è 10 anni o 15 anni che hanno un'azienda ma non sono praticanti cioè non stanno facendo quelle 3 mansioni lì quindi ecco mi hai dato questi due spunti molto 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 interessanti sì quella dell'imprenditore non praticante mi è piaciuta l'imprenditore non praticante sei già ti chiedo un'ultimissima cosa ho chiesto anche le altre persone che ho intervistato che hanno lavorato con me ormai da un po' non a chi consiglieresti di lavorare ma siccome sto facendo una propaganda per eliminarmi un po' di imprenditori che non sono in target con me puoi dire agli imprenditori quando non consiglieresti di lavorare con me a chi consiglieresti di non iniziare un percorso con me avendomi conosciuto beh all'inizio a chi si offendeva ed era permaloso adesso ti sei anche ammorbidito per questo sei anche simpaticissimo anche sul lavoro anche sul lavoro oltre che fuori non è uguale però però direi che a chi non vuole mettersi in discussione a chi pensa che le cose che fa lui sono quelle giuste e può arricchirle un pochettino senza mettere completamente in discussione il proprio pensiero e il proprio modo di lavorare a chi non ti segue e io ho fatto fatica all'inizio a capire perché mi dicessi certe cose dico boh l'avrà letta su qualche libro americano e invece no invece no perché le hai passate sulle tue sulle tue spalle hai fatto esperienza te lo dici pure sono un imprenditore più che consulente per questo chi pensa di avere a che fare con un consulente che arriva lì bacchetta magica ti dico io che cosa fare poi arrivi a casa io non l'ho fatto ma so che tutti quelli che l'hanno fatto hanno buttato i soldi perché poi arrivi a casa ti trovi degli appunti dei libri che non ti servono a niente chiaramente non consiglio Marco Bezzani chi invece si mette lì studia poco giusto per capire per allinearsi sui discorsi sulle cose che ti dice e poi dopodiché lo segue ti confronti bella anche la parte del libro che dici dove 50 sono io e 50 sei tu io sono l'esperto di marketing tu sei l'esperto del tuo settore tu non puoi essere esperto come me di marketing io non posso essere esperto come te del tuo settore se non ci confrontiamo non possiamo crescere quella è un'altra cosa che se uno non vuole confrontarsi e cederti 50% quantomeno dei suoi pensieri è meglio che lasci stare è incredibile Gian come dite ho chiesto questa cosa ad altri clienti tutti quelli che abbiamo fatto le interviste precedenti e usate quasi tutte le stesse parole quindi vuol dire che sembra che ci siamo d'accordo ma non è così cioè effettivamente vedo che no sentite velocemente anche perché sono molto bravi qui due amici che sono di prima di me però no mi era sfuggito questo mi è venuta normale così dirlo eppure veramente sono strano come usate le stesse domande le stesse risposte le stesse parole questo vuol dire che bene o male i miei clienti come ho detto anche nell'ultima intervista con Martina sono si assomigliano tutti per qualche per qualche motivazione perfetto Gian ti ringrazio tantissimo per queste 40 minuti passati insieme hai dato un sacco di informazioni utili abbiamo chiacchierato secondo me di cose veramente interessanti sia per chi è un ristorante che per chi è un imprenditore e ricordo che il 9 di dicembre farò un piccolo prelancio ci arriveranno 300 copie in ufficio qui di Priority Report che darò a i più affezionati le persone che girano uno ovviamente lo riserverò per Gian naturalmente per ricevere una mail con la conferma di quando arrivano e quando si possono comprare quindi credo che poi durerà un paio di giorni questa cosa qua perché poi finiranno le copie le altre andranno a fine gennaio del 2020 quindi poi uscirà pubblicamente a fine gennaio 2020 per tutti gli altri e per averlo andate su PriorityReport.it mettete la vostra mail e vi aggiorniamo vi comunichiamo quando potete avere questa proposta peraltro quelli che acquisteranno il 9 di dicembre lo potranno avere praticamente gratis cioè pagheranno solo le specie di spedizione e avranno anche SystemUp che è una mappa con tutti i punti per ricordare bene le cose tutti i principi da appendersi in ufficio che stiamo preparando che ti avranno in regalo anche questa questa cosa qua quindi PriorityReport.it andate e vedete io Gian ti saluto ti ringrazio tantissimo grazie grazie a voi e ti auguro buon lavoro grazie grazie a tutti ciao 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 ciao